La notte bianca appena passata ha riportato in centro tantissime persone con apertura estraordinaria al Maxi, al Mammut, al Castello e tanta musica, shopping e iniziative in centro. Di fatto è l'edizione di primavera che anticipa un po' il cartellone estivo, che sarà ricco e pieno di eventi. Un assaggio insomma di quello che sarà il movimento estivo, ma di fatto anche in questi giorni all'Aquila si sono visti turisti del nord e anche stranieri, segno di un trend in crescita, i cui numeri sono incontrovertibili. Il commercio ne ha beneficiato, soprattutto le attività di ristorazione bar che complice il bel tempo hanno lavorato bene. Ovviamente i ristoranti e bar hanno lavorato di più rispetto ai negozi tradizionali, ma comunque il passaggio è stato piacevole e vetrina per tutte le attività. La gente c'era ed è stata una festa bellissima, dicono i commercianti. Anche questa mattina la città era piena di turisti aquilani. Molti prediligono il Gran Sasso e si fermano nelle librerie aquilane ad acquistare carte. È stata una festa ieri, una giornata bellissima. Siamo pienamente soddisfatti dell'afflusso della gente. Comunque la città si sta riprendendo e siamo soddisfatti e siamo molto fiduciosi che sarà una bellissima estate. Vedete già qualche movimento turistico perché poi voi avete una clientela variegata? Turisti tanti. Iniziamo soprattutto per quanto riguarda la montagna. Quindi tanti turisti che si stanno già preparando per andare sul Gran Sasso, con l'acquisto delle varie carte. Quindi diciamo dobbiamo spingere sempre di più il nostro Gran Sasso. Bellissimo di vedere la città così piena di gente, davvero bellissimo. Tutti hanno lavorato, quindi credo sia andata bene per tutti i commercianti. Ci auguriamo che sia solo l'inizio come hai detto tu. Per voi sono stati due anni difficili, insomma, perché attività a causa della pandemia. C'è stata già una ripresa l'anno scorso. Che cosa vi aspettate da quest'estate? Io credo che l'Aquila abbia tutte le carte in tavola per fare una grande stagione estiva. L'anno scorso, nonostante i problemi, è andata bene. Mi auguro che quest'anno andrà ancora meglio. Grazie a tutti.